salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale oggi piccolo tutorial e vi spiegherò come programmare e quindi anche gestire i led rgb con arduino 1 tramite tre potenziometri ma prima di iniziare con il video di oggi mi raccomando iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto attivando la relativa campanella delle notifiche inoltre trovate altri tutorial su arduino sul sito www.fatelodasolo.it iniziamo col dire che tutti i led rgb adoperati per arduino non sono gli stessi il modello che vedremo oggi il cosiddetto a catodo comune presenta quattro terminali di cui solo uno è il catodo gli altri tre terminali invece serviranno per gestire i colori rosso verde e blu questi tre terminali corrispondenti a tre led poste all'interno della cupola dell'eld rgb necessitano ognuno di una resistenza da 220 ohm in modo totale da poterli gestire tramite pin pvm digitali di arduino 1 collegheremo a questo punto i tre terminali ai pin digitali pvm 9 10 e 11 rispettivamente 11 per il blu 10 per il verde e il rosso va collegato al pin 9 collegheremo a questo punto anche tre potenziometri che ci serviranno per gestire la variazione di luminosità dei tre terminali ognuno dei quali quindi andrà collegato al pin a 0 a 1 e a 2 ricordiamo ovviamente che stiamo utilizzando dei potenziometri rotativi da 10.000 ohm ovviamente il link in descrizione per poter realizzare il progetto che stiamo vedendo oggi passiamo a questo punto al codice che è veramente basilare e non ha necessità di uso di librerie iniziamo creando sei variabili intere di cui tre dedicate ai potenziometri p1 p2 p3 gli altri invece per mappare questi ultimi valori in valori leggibili dall analog write quindi dei pin pvm queste variabili sono r g e b nel void setup diamo la direzione ai pin digitali 9 10 11 e avviamo semplicemente il monitor seriale passiamo subito al void loop dove leggiamo i valori rilevati dalla rotazione dei potenziometri quindi mappiamo questi segnali analogici in valori pvm che saranno poi inviati ai rispettivi pin digitali tramite la funzione alan log write stampiamo tutto sul monitor seriale e impostiamo un delay di 5 millisecondi carichiamo a questo punto lo sketch sul nostro arduino 1 se abbiamo eseguito bene tutti i collegamenti basterà ruotare i diversi potenziometri per regolare diversi livelli di luminosità se li portiamo 233 al massimo otterremo la colorazione bianca mentre se li ruotiamo completamente uno alla volta otterremo diversi colori red green and blue con questo concludiamo il video di oggi mi racconto pollice all'insù se vi è piaciuto e noi ci vediamo prossimamente con un altro video tutorial un abbraccio dal vostro resci doze ciao 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 ciao